Buonasera, qualche dichiarazione? No, un casino! Avete già suonato? No, siamo gli ultimi! No, un primissimo piano! Sì, vai! Sì, ma lei è l'attrice! Dai! Marco! No, no, no! No, ce lo abbiamo! Ve lo consigliate bene! No, questo è il consigliato! Cioè, se uno accanto all'altro... Ma ce ne vedete? No! Questo è il mio figlio che ogni volta che lo vedo è cresciuto di... Ah, no? Perché dovrà essere più coroio? No, ma così da vicino no, perché non mi garbo! Sì, poi dovrebbe... Ah, morde mingara, hai paura! Guarda quanti oggettini! Un carino! Un carino! C'è... Un vito così! Poi... Quanti malai devo rimanere a fare uno sul marco, eh? Sì, vado a fare uno! Sì, vado a fare uno! Sì, vado a fare uno! E' più! Aspetta, c'è! E' più! Un minuti! Un minuto! Sì! Spana a Pozzo! No, chi lo rivede? L'uomo! Allora, intanto io comincio un attimo a parlare e poi presto iniziono la musica. Ma quella ragazza con il tuo vestito di nervi. Allora, benvenuti all'ennesimo concerto. Certo, prima di tutto io, io sono Lele, sono l'educatore. La nostra sera li presenterò uno alla volta. Sono prevalentemente gruppi della fascia serale, cioè i gruppi dei più grandi che provano la sera dopo scena. C'è anche però un gruppo della fascia pomeridiana, diciamo, che provano... Un'esperienza per me particolare, per i ragazzi particolare, penso che sia da sottolineare l'importanza di questa esperienza, di questa scelta del comune di Capanno. Perché non si è potuto fare il soundcheck, ma c'è come per fare le cose... C'è una città 45 che particolarmente ha un giro di ragazzi, che si può quantificare in torno a una sottotitina di ragazzi. Quindi l'interesse è fermo, è proprio... Solo come sindaco, anche come preside, è che ci siano degli spazi dove i giovani possono esprimersi, possono incontrarsi, possono produrre e influire della musica. E questo credo sia un modo espressivo importante per tutti, ma per i giovani è indispensabile. Saputo ormai, perché la gente poi si dice molto e sa che le cose vanno bene, più ragazzi possibile. Intanto... Grazie 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 a tutti! 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 Ciao! Ciao! Ciao Marco! Sono felice quando succedono queste cose! Eh, ma sono... che buona me scusa! Che ti prega? Mi hai visto ora? Va bene! Allora, vogliamo di suonare su un palco per chi qui vedo diversa gente che suona non dei ragazzi del laboratorio ma altri ragazzi di gruppi e lo sanno quando vuol dire suonare su un palco quindi, speriamo che insomma non... l'emozione non tradisca! Allora, sono Marco! Seconda chitaria! Alla voce, Daniele! E alla batteria, io perché in questo momento abbiamo fatto il batterista e abbiamo un nuovo batterista che ha appena iniziato e non ce la siamo... Insomma... C'è il titolo? C'è il titolo? Skipping Stone! pandistratale! Maglivenci! Ese la abbond Oho! Mighi vai un po' A pens psicografia di uguald Grazie a tutti. Grazie a tutti. Compri qualcosa? Non ti si rivolge più le parole. No, se ti è col tuo profumo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 che era panca, si sentiva, vero che era panca? Pancca, schia di camera. Sorride e sogna, è arrivata la cicogna. Alla parte da soli, chi pensa di stare da soli ci mette te Gabriele. Vabbè, allora, buon divertimento, divertiti, lo sto dicendo a loro ma anche a voi.